Sono stata una studentessa di architettura e nel 2000 ero certa sarei diventata un architetto, così come lo pensavano gli studenti degli anni 90, 80 e anche dei rivoluzionari anni 70. In effetti era vero, non oggi certo. Oggi ci rinventiamo, consapevoli che questa parola significa in realtà riscoprirsi, oppure meglio conoscersi. Progettare è un verbo che nella cultura latina significa guardare oltre, portare in avanti. Attraverso le nostre capacità e le risorse del nostro territorio possiamo proiettare oltre lo sguardo. Questo tempo ci restituisce un'opportunità, la vera occasione per metterci in gioco. Chissà se ce la saremmo concessa diversamente. Grazie a tutti.